Oltre 40.000 servizi svolti da un esercito di 1.350 volontari. È stato un 2017 particolarmente impegnativo per la Croce Rossa italiana di Piacenza, che come di consueto ha reso ufficiale il bilancio delle attività dell'anno appena trascorso. Per la precisione, sono stati 40.349 i servizi svolti, di cui 13.464 emergenze e 13.502 persone soccorse, 18.596 servizi ordinari convenzionati, con 18.623 persone trasportate e 8.289 servizi privati. Inoltre, 876 trasporti protetti di pazienti critici presso altri ospedali regionali ed extra-regionali, con la presenza di medici ed infermieri, 96 viaggi di lunga percorrenza in Italia e all'estero e 2.048 trasporti di pazienti dializzati. Il personale è composto attualmente da 1.350 volontari e 34 dipendenti, di cui 28 assunti da CRI e 6 con agenzia interinale, e conta su oltre 100 mezzi a disposizione. Croce Rossa è presente su tutto il territorio provinciale con 12 sedi e nel 2017 è stata fatta formazione a 152 nuovi volontari. Un grazie ai quasi 1.400 volontari che abbiamo, ai 34 dipendenti che hanno operato consentendo alle nostre ambulanze e ai nostri mezzi di viaggiare 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno al servizio dei cittadini, ma anche tanto impegno nel sociale, aiutiamo oltre 500 famiglie e impegno nella protezione civile. Insomma, abbiamo cercato di aiutare, alleviare le sofferenze fisiche e anche aiutare chi soffre, i bisognosi, proprio durante tutto l'anno. Ci sono già in cantiere due progetti per questo 2018. Avremo, spero, finalmente la ristrutturazione della nostra sede provinciale, di questa sede in Viale Malta, che inizia a sentire un po' il peso degli anni. E poi sicuramente potenzieremo il settore della protezione civile con l'acquisto di qualche mezzo. ...impegno nella prevenzione dei...